Una volta terminato il processo di elaborazione si prepara il prodotto per la sua certificazione alla denominazione di origine di chichuelo. Per questo il maestro assaggiatore osserva se il prodotto rispetta tutte le norme di canoni stabiliti come l'aspetto dello stinco, i risultati del taglio, eccetera, per poi finalmente procedere alla collocazione del contrassegno. Ed è così come il consumatore lo trova nel negozio tradizionale o nell'alta ristorazione. Lì troverà il prosciutto iberico di ghianda con denominazione di origine di chichuelo di alfomare e le sue varietà differenziate basicamente per la genetica e l'alimentazione del maiale utilizzato. Tre prodotti differenziati per i loro contrassegni identificativi.